Ben ritrovati a Camera di Commercio News. Con il settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino puoi capire se la tua idea di diventare imprenditore avrà successo. Puoi cominciare andando sul nostro sito www.to.camcom.it slash creare trattino impresa, iscriverti alla newsletter specifica per gli aspiranti imprenditori e prendendo poi un appuntamento con il settore. Vediamo il servizio. Grazie all'assistenza personalizzata e gratuita della Camera di Commercio di Torino si può scoprire come aprire un negozio o avviare un'impresa, informarsi sugli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività, sapere se si hanno i requisiti professionali, quali costi fissi andranno affrontati e in un ultimo conoscere se sono disponibili finanziamenti nazionali e regionali. Il settore Nuove Imprese ti dà poi un servizio di assistenza specialistica con esperti per rispondere in maniera qualificata e professionale ad esigenze specifiche emersi a seguito del primo contatto e a seconda della necessità. Fiscalità, contrattualistica, dettagli dell'avvio dell'impresa. Il settore Nuove Imprese cura anche quest'anno alcuni progetti come l'Erasmus per giovani imprenditori, che ha sempre più successo a Torino, e progetti nuovi come Futura e che coinvolge migranti di prima e seconda generazione. Nuove Imprese fornisce guide online scaricabili e un programma di corsi di orientamento gratuito, anche in collaborazione con il Comitato per l'imprenditorialità femminile. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.